A prevalso quale soluzione? A prevalso la soluzione è di mantenere il mercato in corso longhi, soluzione adottata a titolo sperimentale dopo il rifacimento e la riqualificazione del controviale, girando sostanzialmente i banchetti anziché lato mare, lato strada. Questa soluzione prevede che l'arredo urbano che il progetto di riqualificazione prevedeva al centro del controviale e venga invece posizionato da un lato, con una modifica minima rispetto al progetto sostanzialmente. Che cosa cambia dal punto di vista logistico? Adesso dovete fare ancora qualche aggiustamento oppure è tutto a posto? Una minima variante del progetto dell'arredo urbano del controviale. Questa soluzione che è stata scelta attraverso il referendum quindi vigerà sia per la stagione estiva che per quella invernale? Certamente sì, c'è solo una variazione del giorno che durante tutto l'anno è domenica mattina, nel mese di agosto invece viene spostato al martedì mattina. È rimasto soddisfatto della partecipazione dei Monegliesi al referendum? Assolutamente sì, Monegliesi hanno partecipato in massa a questo referendum non raccogliendo l'invito del comitato e del gruppo di minoranza di rifiutare la scheda, tant'è che questa condizione è stata scelta soltanto da circa 5%, perché su circa 1700 votanti per il riferimento nazionale più di 1600 hanno votato anche per quello locale. Quindi i Monegliesi hanno dimostrato di voler dire a loro e questo mi sembra che abbia apprezzato anche la nostra scelta di dare a loro la parola.